Il Comune di Bordighera, in collaborazione con il Museo Fondazione Terruzzi Villa Regina Margherita, ha posto sul piazzale di Capo Sant'Ampeglia una spettacolare installazione artistica di Stefano Bombardieri. Si tratta infatti di un'opera che rappresenta delle labbra, in cinque formati, abbinati alla mostra Pour le plaisir des yeux, inaugurata alla Villa Regina da pochi giorni. Un nuovo modo per catturare l'attenzione dei turisti sulla terrazza da cui si può godere una magnifica vista del mare e della costa. Grazie a tutti.